Gentili degli spettatori protagonisti, in compagnia di una massima espressione cinematografica, lui è l'attore Ennio Fantastichini. Anzi tutto benvenuto sui protagonisti. Grazie, grazie. Ennio, parliamo di questa opera prima di un amico, artistico su tuo, di Claudia Mendola, questa mossa del pinguine e tutti ci chiediamo cosa possa mai essere. La capacità di adattarsi forse e di pensare anche sempre un po' positivo in questa storia di marginazione ma di solidarietà dove andate a sublimare il sentimento dell'amore e dell'amicizia. Beh, io credo che questo qua sia un punto di vista interessante. L'altra cosa che mi aveva colpito di questo copione è che raccontasse delle piccole vite, non delle vite sontuose ma delle vite piuttosto private, persone che hanno dei problemi economici, che sono precarie. Insomma, diciamo che il film, la storia del racconto del film è un film epocale, io credo che oggi l'Italia stia in queste condizioni. Questi incontri di queste quattro solitudini farà in modo che nasca una passione per un progetto che in questo caso specifico è il curling e da lì cominciano una serie di avventure di questi quattro personaggi. Due più giovani che sono Memphis e Eduardo Leo e io e Antonello Fassi, i poveri vecchi, che sono quelli che poi si incontrano scontrandosi ma incontrandosi di nuovo. Direi, questo mi sembra che già il film abbia una sua connotazione. Tu nasci col teatro, stai anche con Beniamino, questo professor di eloquenza, Shakespeareana, che si innamora di questo allievo, tredicene balbuziente. Sì, sono questi giorni un pochino di pausa di qualche giorno, 5-6 giorni e poi sto riprendendo, facciamo un po' fatica perché anche il teatro, devo dire, ha preso una trambata come tutti. Ci sono delle date che ci saltano, i comuni che non hanno i bilanci e quindi diciamo però con fatica io cerco di portare avanti questo progetto di disciplina e di passione. Non bisogna mai perderla questa, quando si perde questa è durissima, è difficile. Nella trasmissione si chiama I protagonisti, un tuo saluto a chi ci sta guardando in casa. I protagonisti, speriamo che siate voi molto presto, buon chance. Grazie, grazie mille.